Musica Amici telespettatori ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete in apertura al nostro telegiornale Cava dei Tirreni Ancora uno stop per i lavori di messa in sicurezza del costone franato in via Morcaldi nei pressi dell'abbazia Benedettina I dettagli nel servizio che segue Ancora uno in toppo per i lavori di messa in sicurezza del terrapieno franato lo scorso 25 marzo in via Michele Morcaldi a pochi passi dall'abbazia Benedettina della Santissima Trinità Infatti dopo aver liberato la strada dalla terra e dai massi venuti giù prima di poter garantire il passaggio dei pedoni è necessario demolire un altro pezzo di muro che al momento è seriamente a rischio crollo Per fare questa operazione è necessario un ulteriore parere della sovrintendenza Ciò come spiegato dal sindaco Vincenzo Servalli ha causato un nuovo stop ai lavori È un percorso veramente ad ostacoli Come i nostri concittadini sanno la provincia è intervenuta in danno per fare l'intervento di liberare la strada che porta all'abbazia Benedettina ma liberare soltanto la strada non basta bisogna mettere in sicurezza quel costone, quel pezzo che è franato La provincia è intervenuta, un'impresa si è regata sul posto la parte di strada è stata liberata dopodiché però si è posto un altro problema La provincia ha scritto una nota al prefetto chiedendo un incontro con la sovrintendenza e con il comune di Cava dei Terreni per definire alcuni interventi in maniera particolare si ritiene che sia necessario da parte dei tecnici far abbattere, far cadere ulteriori pezzi di questo costone che vengono considerati in questo momento pericolosi ovviamente per rimuovere, per far crollare, per far cadere in sicurezza questi materiali questo ulteriore pezzo di costone è necessario avere l'autorizzazione della sovrintendenza cioè la sovrintendenza che deve dire potete far cadere questo materiale e lo dovete anche come ha già fatto relativamente al materiale che è stato rimosso lo dovete anche conservare in maniera particolare lo dovete mettere da parte per fare una valutazione sull'eventuale valore di questo materiale e quindi i lavori si sono fermati nuovamente perché c'è obiettivamente una condizione adesso di pericolo di ulteriori crolli di questo materiale e quindi la situazione si è complicata abbiamo attraverso la provincia liberata la strada però insistono ancora delle condizioni di pericolo va messo tutto in sicurezza è necessario adesso per fare questo intervento che ci sia un coordinamento tra chi deve eseguire i lavori e cioè la provincia chi li sta eseguendo in danno la sovrintendenza a me dispiace tutto questo però noi dobbiamo aprire la strada in sicurezza abbiamo visto che in questi giorni nonostante il permanente di questa condizione di pericolo di ulteriori crolli comunque qualcuno ha mosso le misure di sicurezza quindi sono passati addirittura mi hanno riferito che sono passati con dei motorini è pericolosissimo passare da lì ho sentito anche il prefetto che mi sono permesso di rappresentare al prefetto la urgenza di questo incontro perché abbiamo fatto un pezzettino abbiamo liberato la strada dal materiale ma resta la cosa più importante mettere in sicurezza per poter poi riaprire e far passare le persone io posso solo chiedere a tutti i cittadini ma in maniera particolare al padre Abate tanta tanta pazienza ce la stiamo mettendo tutta tutti quanti sempre a Cava dei Tirreni torna a riunirsi lunedì 24 luglio con inizio alle ore 17 il consiglio comunale in aula approderà l'adesione del comune metelliano alla rottamazione delle cartelle esattoriali il comune di Cava dei Tirreni aderirà alla rottamazione delle cartelle esattoriali dopo l'ok ottenuto in commissione il via libera definitivo arriverà lunedì pomeriggio in consiglio comunale infatti alle ore 17 è in programma una nuova riunione del parlamentino cittadino che verterà proprio su questo argomento all'indomani dell'emendamento accolto dal governo anche il comune metelliano ha avuto la possibilità di procedere alla rottamazione delle cartelle relativa ai tributi comunali un'opportunità importante per migliaia di contribuenti cavesi l'approvazione del decreto infatti ha eliminato la disparità di trattamento relativa alla rottamazione delle cartelle esattoriali tra la riscossione diretta degli enti locali e quella fatta dai comuni tramite società private come la sogget nel caso specifico di Cava dei Tirreni i primi infatti potevano beneficiare del bonus i secondi invece no ora con l'articolo 17 del cosiddetto decreto bollette viene data la possibilità ai comuni di adottare un apposito provvedimento per applicare alle ingiunzioni fiscali relative ai tributi sia l'annullamento automatico dei debiti fino a 1000 euro relativo ai carichi 2000-2015 sia la rottamazione delle cartelle contenenti debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 il consiglio comunale sarà chiamato ad approvare il regolamento di disciplina per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali degli accertamenti esecutivi e l'applicazione dell'annullamento parziale dai carichi fino a 1000 euro affidate al concessionario della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 prevista infine anche l'approvazione del gemellaggio tra la città di Cava dei Tirreni e la cittadina greca di Velia ci spostiamo in costiera amalfitana gli abitanti della località Erchie avrebbero avviato le procedure per l'annessione al territorio di Cetara ad oggi non c'è ancora nulla di certo per questo motivo l'argomento sarà portato al centro del dibattito in consiglio comunale a Magliori gli abitanti di Erchie avrebbero intrapreso le procedure per ottenere il distacco della propria frazione da Magliori e la conseguente annessione all'imitrofo comune di Cetara sembrano trovare conferma le voci che da tempo insistevano in costiera amalfitana circa la volontà sempre più forte degli abitanti del caratteristico borgo marinaro di abbandonare il comune di Magliori a cui appartiene amministrativamente per unirsi al più vicino comune di Cetara da tempo i residenti di Erchie a quanto pare patiscono numerosi disagi proprio per l'eccessiva distanza circa 10 km dal centro urbano di Magliori l'intenzione dei cittadini di Erchie di staccarsi da Magliori sarà oggetto di discussione nel prossimo consiglio comunale infatti il gruppo Magliori di Nuovo con le consiglieri Elvira D'Amato e Nicoletta Sarno nelle scorse ore hanno inviato un'interrogazione urgente al sindaco di Magliori di Antonio Capone e al segretario generale per chiedere informazioni in merito nello specifico viene chiesto al primo cittadino di informare il parlamentino in merito allo stato effettivo delle procedure in atto per il distacco della frazione di Erchie dal comune di Magliori nonché a comunicare in dettaglio il piano delle iniziative intraprese e che il comune di Magliori intende intraprendere al riguardo La cronaca sequestrato stabilimento balneare abusivo a Vietri sul mare dalla Capitaneria di Porto I militari della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Salerno nell'ambito dell'attività di controllo sul corretto utilizzo del demanio marittimo hanno provveduto nella giornata di ieri allo scombero con restituzione alla collettività di un'area demaniale marittima di 1800 metri quadri abusivamente occupata nella spiaggia del comune di Vietri sul mare Nello specifico, l'area demaniale risultava occupata senza alcuna autorizzazione mediante l'installazione di numerose attrezzature balneari da parte di alcuni soggetti Le attrezzature balneari sono state rimosse su disposizione dei militari e poste sotto sequestro I trasgressori che avevano occupato l'area abusivamente sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale Intanto a Magliori nell'ambito della stessa tipologia di controlli gli agenti della polizia locale e il personale della Capitaneria di Porto e della Miramare Service hanno individuato 15 imbarcazioni di cui sette alla banchina in ferro a sbalzo sette al sottoflutto e uno in area tecnica che sono risultate prive di qualsiasi titolo autorizzativo ad ormeggiare I natanti ormeggiati abusivamente saranno rimossi su disposizione della Capitaneria di Porto nei prossimi giorni al fine di tutelare la sicurezza della navigazione Auto fuoristrada in piazza della Concordia tragedia sfiorata sul lungomare a Salerno Avrebbe potuto travolgere le persone sedute ai tavoli dinanzi al bar di piazza della Concordia a Salerno ma i paletti all'angolo del marciapiede hanno attutito il colpo di un'auto una lancia musa finita fuoristrada è accaduto questa mattina intorno alle 8 sul lungomare di Salerno quando la vettura guidata da un uomo in direzione Torrione ha finito la corsa all'angolo del marciapiede abbattendo tre paletti delimitatori in ferro mettendo in fuga per lo spavento alcune persone che erano sedute ai tavoli tanta paura ma per fortuna non si registrano feriti sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Salerno che hanno effettuato i rilievi dell'incidente allertati da una persona che ha assistito all'impatto il conducente della vettura avrebbe dichiarato di aver avvertito un rumore forse originato da un guasto meccanico condizione che potrebbe aver fatto finire fuoristrada la lancia musa a prestare il servizio di assistenza stradale anche gli operatori di strade sicure service e gli operatori della manutenzione strade del comune di Salerno per rimettere in sicurezza anche un palo della segnaletica stradale per fortuna che al momento dell'incidente il tratto del marciapiede del lungomare di Salerno considerato l'orario era poco affollato diversamente l'incidente avrebbe rischiato di travolgere più persone così ai nostri microfoni un cittadino che stava sorseggiando il caffè al bar richiamato da un forte rumore stamattina verso le 8 stavo qua davanti al bar abbiamo sentito un rumore di una botta e siamo andati a vedere era una macchina che ha fatto l'incidente ci stavano delle persone che però non si sono fatte niente ci possiamo fermare per qualche istante che bello finalmente parto per le vacanze quest'anno porterò con me tutto quello che voglio senza limiti come? grazie a Mailboxis etc che spedirà per me le valigie a quel paese e non solo ho scelto di farle viaggiare anche assicurate così mi godrò il viaggio senza pensieri ed in piena libertà ed inoltre arriveranno prima di me in albergo che comodità zero stress per riparare la carrozzeria della tua auto restyling car in via starza a cava di terreni e specialista in riparazioni gestione sinistre con fornitura di auto sostitutiva detailing completo riscalda e illumina con noi la tua casa e il tuo condominio sia che si tratti di cambio fornitore che di nuovo allaccio i nostri consulenti seguiranno senza alcun costo l'intero iter della richiesta garantendoti sempre il miglior prezzo disponibile fattore semplici chiare e dettagliate disponibili gratuitamente anche online e via email ci puoi trovare in via Vittorio Veneto numero 158 a cava dei Tirreni previsioni per oggi nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni o velati in montagna bel tempo con cieli sereni in serata sulle coste bel tempo con cieli sereni o velati in montagna bel tempo con cieli sereni previsioni per domani al mattino sulle coste schiarite con transito di velature sparse in montagna bel tempo con cieli sereni o velati Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati In montagna, schiarite con transito di velature sparse Sport, calcio, due ingaggi tra ieri sera e stamattina per la Cavese che dovrà frequentare il campionato di Serie D Prima il fantasista Mercurio e poi il terzino Rana si uniranno alla squadra Aquilotta Gradualmente si sta componendo l'organico a disposizione della Cavese Ieri sera il club ha ufficializzato l'ingaggio di Giovanni Mercurio e stamattina è stato invece preso Vincenzo Mattia Rana Si tratta di due under, entrambi pugliesi e tutti e due scuola Bari Per quanto riguarda Mercurio, si tratta di un attaccante esterno brevilineo nato nel 2003 a Bari Mercurio, un cognome che ricorda la mitologia greco-romana il dio dai piedi alati, il messaggero degli dei e anche figlio di Giove spetterà a lui sul campo dimostrare di avere le ali ai piedi e di essere più veloce di molti avversari che troverà sulla propria strada Cresciuto calcisticamente nel Bari, il calciatore sembrava avviato a una carriera luminosa Fu fatto debuttare in prima squadra in Serie C con i Biancorossi da Massimo Carrera e alla quarta presenza ci fu il primo gol contro il Palermo allo stadio San Nicola questo nella stagione 2020-2021 Nell'annata successiva ci fu il passaggio alla primavera del Napoli poi poche possibilità di incidere nell'ultima annata tra Andria e Casarano questo è vero ma per quanto riguarda il campionato che prenderà il via nel settembre prossimo dipenderà tutto dalla voglia di rimettersi in gioco da parte di Mercurio che ha sicuramente un'ottima proprietà tecnica gioca molto bene negli spazi e sa andare al dribbling ma è ancora giovanissimo e ha molto da potere e dovere esprimere Rana è invece nato nel 2005 a Barletta gioca terzino destro e proviene dal Milan con cui ha militato nella squadra under 18 riportando una quindicina di presenze in precedenza aveva fatto parte di una scuola calcio di Barletta e poi del vivaio del Bari giocatore molto potente, alto 1,85 nelle intenzioni di mister Cinelli dovrebbe svolgere in bianco-blu il ruolo di difensore puro sulla fascia esterna per lasciare agli attaccanti libertà di esprimersi in avanti dopo aver giocato a lungo con continuità nella formazione giovanile rossonera Rana è stato poi fatto riposare nella parte finale del campionato giovanile dal tecnico Terni che lo ha alternato con il classe 2005 D'Alessio ma la prima esperienza in una prima squadra potrà essere utile al ragazzo già dotato di mezzi fisici importanti per forgiarsi caratterialmente e per mettersi in discussione giocando insieme ad atleti più grandi l'ulteriore curiosità su Rana è che ha fatto parte della squadra rappresentativa della Lega Pro che vinse il torneo internazionale di Cavaretirreni nel 2022 lo vedete sulla destra con la maglia numero 7 quindi ha già conosciuto il manto erboso dello stadio Simonetta Lamberti che sarà il suo campo per questa stagione il telegiornale è terminato l'informazione di RTC Quarta Rete ritorna alle prossime edizioni grazie per la cortesi e attenzione buon proseguimento con i nostri programmi buon proseguimento con i nostri programmi